La ripresa è lenta dopo il lockdown in provincia di Pavia, una considerazione che emerge analizzando i dati forniti in questi giorni da Asso Lombarda. Nei primi sei mesi del 2020 si è registrata una contrazione di quasi il 12% delle esportazioni pavesi rispetto allo stesso periodo del 2019, un dato comunque inferiore almeno 15% a livello regionale. I numeri vanno però contestualizzati, ricordando che l'anno scorso l'export provinciale ha conosciuto un vero e proprio boom facendo registrare un più 12,5% annuale, record a livello regionale. Per quel che riguarda invece la cassa integrazione sono state richieste 13,4 milioni di ore dalle imprese pavesi nei quattro mesi da aprile a luglio, complessivamente è già stato superato il record del 2009, ma se Pavia e Naspa non va meglio alle altre province lombarde. Crescono invece del 4% gli spostamenti in provincia di Pavia rispetto al periodo precedente all'emergenza sanitaria, ovvero tra il 13 gennaio e il 16 febbraio, un piccolo segnale di un graduale ritorno alla normalità che sta riguardando il nostro territorio.